No, scusa, adesso perché oltretutto è da querela. Beh, non è da querela. No, è da querela perché... Allora, guardi che è il pupillo, guardi che è il pupillo, guardi che è il pupillo, guardi, guardi che è il pupillo. Eh, beh, beh, come c***o ti chiami? No, no, prenda la sua balalaica e vada a lavorare da un'altra parte. Ma ti pare possibile che nel TG4 tu metti quella foto? E certo, perché sono io e Silvio quando stiamo insieme nel tempo libero, ha capito? Sai qual è la verità? Poi magari... Perché voi comunisti non avete il senso della misura. Perché io ho giocato... Allora, ho giocato, mi dia i dati, io l'ho denuncia! Io ti denuncio!